Musica Bene, sono appena uscita dall'officina e mi trovo qua con Luca Frabetti, titolare della 9000 Giri, azienda con esperienza decennale specializzata in preparazioni, al quale sottoponiamo qualche domanda che ci hanno proposto i nostri telespettatori. Allora Luca, nell'ambito degli interventi possibili effettuati sul motore, quali sono quelli più richiesti? Allora, innanzitutto buonasera e grazie di avermi invitato. Dunque, per rispondere a questa domanda diciamo che gli interventi sul motore ce ne sono tantissimi. Quelli più diffusi sicuramente riguardano le modifiche sull'elettronica, quindi per quanto riguarda le vetture più odierne, la modifica dalle centenelle elettroniche è decisamente quella più richiesta, modifiche sugli impianti di scarico che possono essere collettore di scarico, catalizzatori metallici, piuttosto che semplici terminali, anche queste sono modifiche estremamente diffuse. E direi per finire tutto quello che riguarda il condotto di aspirazione, quindi tutto quello che riguarda filtri, aspirazione diretta o quanto riguarda l'ambito dell'aspirazione. Ok, come possiamo descrivere una preparazione cosiddetta soft tuning rispetto a una più consistente? Allora, noi come soft tuning cerchiamo di definire tutti quegli interventi che vadano a modificare la vettura, ma non a stravolgerla, o diciamo, detta molto più in sintesi, cerchiamo di effettuare degli interventi il più possibile, chiamiamoli legali, cioè cose che si possono effettuare o che siano compatibili con il codice della strada. Mentre modifiche più pesanti ovviamente riguardano modifiche, chiamiamole agonistiche, o quantomeno per un utilizzo in pista, quindi sicuramente non a livello stradale. Per entrare un pochino più nel dettaglio, ovvero il soft tuning abbiamo visto prima, che riguarda appunto elettronica, scarico e aspirazione, mentre modifiche più pesanti riguardano sicuramente il fatto di aprire il motore e di intervenire per quanto riguarda alberi a campo, piuttosto che testate, cambi di cilindrata. Giusto per avere un metro di paragone, in un esempio su recenti modifiche che abbiamo fatto su motori Subaru, abbiamo proposto due step di preparazione, sempre parlando di modifiche diciamo più pesanti o agonistiche, uno step a 320 cavalli e uno step a 400 cavalli, fino ad arrivare proprio a cambiare la cilindrata, cambiare il cambio, quindi accorciando i rapporti, quindi facendo tutta una serie di interventi che non hanno più nulla a che vedere per un utilizzo stradale, assolutamente. È possibile modificare qualunque tipo di vettura oppure esistono alcuni motori che meglio si prestano di interventi di potenziamento? Visto la tipologia di vetture che attualmente circolano in Italia, soprattutto nell'ambito di Milano dove noi abbiamo la sede, direi che gli interventi più opportuni sono quelli su vetture turbo, nel senso che le maggiori prestazioni si ottengono modificando appunto vetture turbo compresse. Probabilmente una volta era molto più semplice, era molto più forse anche bello intervenire su motori aspirati dove bastava magari cambiare la guarnizione della testa piuttosto che la lucidatura dei condotti, si riuscivano ad ottenere delle prestazioni che oggi come oggi sono praticamente irraggiungibili dato il fatto che appunto i motori sono tutti uguali fra loro, sono praticamente perfetti, quindi diciamo che le prestazioni si ottengono andando a affinare o andando a lavorare prevalentemente su parametri di elettronica, sempre parlando di determinati tipi di preparazione. Prima di effettuare un intervento di potenziamento, che tipo di accorgimenti e di verifiche bisogna effettuare? Noi come 9000 giri cerchiamo di accontentare tutti ma comunque di verificare il tipo di vettura sulla quale andiamo a intervenire, quindi controlliamo lo stato generale della vettura, quando si tratta di fare un potenziamento motore verifichiamo l'integrità del motore stesso, verifichiamo quanti chilometri la macchina ha percorso, facciamo generalmente una prova di compressione e interveniamo su motori che ci possono dare, cioè che ci danno la possibilità di intervenire e dare una garanzia poi sul lavoro che effettuiamo, quindi non facciamo preparazioni su motori diciamo troppo vissuti o comunque che non ci danno le caratteristiche per cui non possiamo dare la garanzia su questo tipo di interventi. Bene, grazie per aver risposto alle domande dei nostri telespettatori, però vorrei farti una domanda che ti riguarda particolarmente, vuoi mostrarci il vostro progetto di franchising? Allora il progetto di franchising nasce come 9000 giri circa tre mesi fa e riguarda la possibilità appunto di, cioè diamo la possibilità a tutti coloro che sono appassionati del settore di entrare in questo mercato, in questo ambito non in maniera autonoma ma cercando di avere qualcuno alle spalle. Per cui abbiamo instaurato questo meccanismo dove diamo in concessione il nostro marchio e la nostra esperienza cercando di dar corpo ai sogni o alle necessità che appunto coloro che vogliono entrare in questo mercato si pongono. Bene, grazie Luca per essere stato con noi questa sera, grazie per i tuoi chiarimenti e adesso direi che dopo le delucidazioni che ci ha dato il nostro esperto non possiamo altro che avere le idee chiare su ciò che riguarda il motore della nostra auto. Grazie a tutti.